Ormai il Molise sembra essere diventata la sua seconda casa. L'inviato delle Iene, Filippo Roma, è stato spesso in regione per occuparsi di inchieste scottanti che hanno riguardato soprattutto la casta e i costi della politica. È tornato anche oggi a Campobasso, ma stavolta per parlare agli studenti dell'Università del Molise di diritto all'immagine e diritto all'informazione, una iniziativa organizzata dal Dipartimento Giuridico dell'Unimol. È un tema delicatissimo perché i giovani devono capire che la nuova informazione, la nuova economia va verso una cessione del diritto all'immagine. Questo molte volte fa cazzotti con il diritto all'informazione. Il problema è capire quale sia il rapporto tra la nuova informazione, che io ritengo ci sia oggi in diritto pubblico, e la nuova economia del diritto all'immagine. Di qui l'occasione della lezione moderna, che mira a capire se noi possiamo creare una nuova informazione che serve ai giovani e che consente ai giovani di lavorare sempre di più in modo più efficiente per il nostro paese. Come mai avete chiamato Filippo Roma? La scelta è nata dal nuovo modo di fare informazione, che è un modo da capire alla luce dei nuovi mass media, che ha molto a che fare con il diritto all'immagine, che ha molto a che fare con i diritti alla persona umana. E quindi è stata una scelta che si propone praticamente di far capire ai giovani il nuovo modo di fare informazione, i nuovi pericoli, le nuove difficoltà, sia da parte dei giornalisti, degli operatori di informazione, che da parte dei giovani. Per Filippo Roma, accoglienza calorosa da parte degli studenti che hanno affollato l'aula magna Vincenzo Cuoco. Applausi e molti selfie per l'inviato delle Iene. Noi abbiamo introdotto la cosiddetta informazione intrattenimento, cioè un modo di raccontare la verità, la realtà delle cose attraverso l'ironia, l'irriverenza e quindi attraverso la risata. Questa è la nostra grande caratteristica che ci rende un po' unici nel panorama televisivo. Oggi è un tema molto interessante che andiamo ad affrontare perché è molto importante capire qual è l'equilibrio fra tutti questi aspetti. Che da una parte c'è l'esigenza di informare il pubblico, dall'altra c'è anche l'obbligo di rispettare la legge. E quindi oggi affronteremo anche tutti gli aspetti giuridici legati alla privacy, alla riservatezza dei personaggi che andiamo a intervistare. Fondamentalmente quando si intervista un personaggio pubblico diciamo che in teoria la riservatezza ha poco margine. Però poi andremo a scoprire oggi nella nostra lezione che ci sono degli aspetti invece di cui bisogna tenere conto. Voi siete accusati però di fare un tipo di informazione coraggiosa ma nascondendo le telecamere. Insomma non sarebbe meglio presentarsi direttamente con la telecamera e il microfono? Allora noi alla fine di ogni servizio comunque ci presentiamo petto in fuori, telecamera e microfono. Utilizziamo la telecamera nascosta quando dobbiamo scoprire alcune cose che non potremmo documentare senza una telecamera nascosta. Quindi la telecamera nascosta è uno strumento per far venire fuori una verità che altrimenti non verrebbe alla luce. Poi siete stati parecchie volte in Molise, contate di tornarci? Molise è una bella regione innanzitutto quindi è sempre un piacere venirci. E poi dal punto di vista giornalistico ci dà parecchie soddisfazioni da un po' di anni quindi non escludo che torneremo. Grazie. Grazie. Grazie.